Allora 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 Ok, vai Ok Vai Ok 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 Farmacia Togliatti Ok 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 Adesso abbiamo affrontato il discorso Android Ovviamente abbiamo anche il Play Store Cosa significa Apple CarPlay Per tutti colori Per tutti coloro che hanno sistema iOS iPhone Apple Si può installare il programma Apple CarPlay Cosa permette? Permette questo Questa è l'app da desktop Autoplay Ok 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 tutto in touchscreen direttamente dal tablet possiamo gestire il navigatore Apple audio, video poi basta andare sul vostro contenitore Apple scrivete Apple CarPlay e vi indicano tutte le app che potete sfruttare in touchscreen in questo momento stiamo usando Maps di Apple possiamo usare Whatsapp in vocale ecco qua le app musica, audio, video ovviamente tutte le impostazioni originali della macchina rimangono non c'è nessuna penalizzazione ad esempio abbiamo la retrocamera dinamica che noi tranquillamente la recuperiamo mettiamo la retrocamera e abbiamo la funzione retrocamera dinamica con i sensori di parcheggio funzionanti ecco qua state vedendo la retrocamera vi ringrazio e buona giornata grazie a tutti